Ciao ragazzi, sono Yumemmo, dunque stasera non farò un video del filone teatro-teatrino ma voglio concentrarmi su una persona, ovvero una mia amica e questa mia amica è Silvia Ciupi Silvia Ciupi è una mia amica, ci siamo conosciuti più o meno 5 anni fa in via San Martino a Pisa entrambi ci siamo conosciuti in via San Martino perché avevamo lo stesso gruppo di amici eravamo pischelli, andavamo lì, avevamo 16 anni e facevamo zingarate varie tra queste zingarate me ne ricordo una in particolare che ci ha legato particolarmente ovvero il suo ragazzo un giorno, allora premetto che io andavo a giro con la biciclettina, con una graziellina e una volta io la cercavo perché la dovevo diciamo slegare e andare a casa e la trovai appesa a una finestra in via San Martino ed era stato proprio il suo ragazzo a metterla lì sopra sicché è fatto una colonna umana e si è tirata giù e proprio da quell'evento lì siamo diventati molti amici, abbiamo incominciato a frequentarci a andare a giro per il Ponta Serchio e a fare altre zingarate varie tipo andare nei campi di pannocchie e depredarli brutalmente ciao Silvia a fare un saluto, ecco la Silvia Ciupi è qui dietro come vedete rossetto, rosso, capelli rossa e vabbè no, ma sembrava e allora niente, oggi andiamo a vedere i tratti caratteristici di Silvia Ciupi allora prima di tutto volevo premettere due cose la prima è che questo video è stato girato intorno all'una e mezzanotte e mezzo di notte la seconda è che ogni riferimento a persone o eventi, fatti o cose è puramente casuale ciao Silvia Ciupi ciao che c'hai? niente cos'hai fatto? mi ha scopato chi? a sdruvale a sdruvale? e dove? nel cesso oh 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 Deciupi è una po' mia davvia come se non fosse tua eh o meno, ma a me mi piace il pisellino lo so piccola che ti piace prenderlo del groppone ma devi anche pensare a te stessa non mi piace il pisellino lo so, lo so ciupi ma che cosa stai facendo? memmo la sto saltando la pasta lavoro in un ristorante io ciupi sei una vacca si sei una troia sei una brià quel fregolino non sono una troia non sono una brià non sono troia non sono troia non sono troia non sono troia che caccia mi vengo a sbrocià vai sbrocià vai sbrocià vai sbrocià no non ci vado a sbrocià invece si ideale vai memmo cambio campo nooo mi vengo a fare voglio be voglio be voglio be fammi be fammi be no si no 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 Allora innanzitutto volevo dire che mi sono divertita molto a girare questo video col mio amico Memmo È stato molto divertente però ogni fatto registrato stasera è puramente e solamente casuale Ma l'avevo detto Io voglio ripeterlo così che la gente possa ricordarlo Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video di Memmo YouTubers Grazie